buongiorno e benvenuti in questo nuovo video allora ci vedete in macchina perché dobbiamo anche oggi uscire purtroppo sì perché abbiamo sacco di cose da fare a casa però devo andare a prendere quei pezzi che ci mancano per sistemare i cassetti e principalmente per quello e ieri ho preso tutte le misure come avete visto dal video e quindi insieme a me e quindi adesso appunto andiamo giù alla prealpina a prendere queste cose che ci mancano e intanto passiamo dai cinesi a prendere altre cosine e poi dobbiamo passare che sono tutti e tre vicini in un posto solo dobbiamo andare al penni a prendere veramente tre cose perché come avete visto tra verdura carne e pasta abbiamo a casa però mi manca l'olio che l'abbiamo finito e volevo prendere la carne tritata per fare ragù perché volevo fare gli gnocchi freschi fatti in casa e ci piacciono tantissimo con ragù e quindi devo prendere la carne tritata e boh quindi adesso andiamo fa caldo oggi è una bella giornata di sole non c'è neanche mezza nuvola almeno non ne ho viste quindi tornando poi a casa dovrò anche fare tutte le lavatrici del caso che devo metterne su una prima di uscire e invece mi sono dimenticata benissimo ma magari la faccio fare ai grandi che sono rimasti in casa e niente quindi adesso facciamo queste come missioni cerchiamo di portarvi con noi un pochettino perché comunque dovendo star dietro a tutte e tre c'è più che altro a pia e gialla perché sabrina si sta dietro abbastanza da sola però comunque un occhio lo devo dare a tutte e tre quindi non so quanto riuscirò a filmare ma poi ve lo faccio sapere nella roba che invece abbiamo preso ieri c'era anche una seggiolina per gialla perché è quella che le ho preso l'altra volta insieme a quella di pia gabriele la rotta sedendoci si sopra e quindi ne ho presa un'altra infatti ho detto adesso mettiamo una foto che è vietata per gabriele così almeno non era roba di nuovo e poi basta quindi ci aggiorniamo dopo ciao ciao siamo stati al penny e ci sono le bambine abbiamo preso un po' di cose anche per ferragosto cioè quasi tutte veramente qui c'è pia e adesso andiamo a casa che il pomeriggio sarà pieno di lavori allora siamo arrivati a casa fa un caldo incredibile è anche arrivato un pacco che vi faccio vedere dopo e niente qui ci sono tutte le buste adesso vediamo da dove partire perché non so neanche da dove partire se dalla spesa ma penso dalla spesa perché c'è la roba da mettere via quindi iniziamo dalla spesa al penny market abbiamo preso una fanta per domenica che è ferragosto una pepsi che però hanno già aperto perché questa qui l'ho presa da bere da qui a ferragosto insomma due bottiglie di coca cola sempre per ferragosto poi qui ho preso l'olio di oliva che ve l'avevo detto che mi mancava la maionese calve classica perché è senza glutine perché in quella del penny non c'è scritto senza glutine quindi ho preso quella della calve almeno ero sicura per gabriele poi ho preso queste brioche queste crostatine bis frolline 28% di crema nocciola e cacao ci sono quattro merende doppia bontà di frolla con crema alle nocciole e cacao è contenta perché ha visto il barbecue poi un litro di olio di semi di arachidi e un litro di olio di semi di mais e poi sempre per domenica perché così magari se riesco a recuperare magari per un giorno non abbiamo troppo sbatti quindi forse ho preso i bicchieri quelli compostabili che si possono smaltire nell'organico e ne ho preso una confezione tanto giusto per domenica ecco perché comunque sarebbe bello ogni tanto non dover stare poi dietro a lavare piatti, bicchieri eccetera quindi ho preso i bicchieri poi una confezione di uva bianca una confezione di uva nera olio extravergine di oliva ve la sto facendo vedere così perché non ho lo spazio sul tavolo per fare come facciamo di solito poi due pacchi di mozzarella queste qui del sapore di cascina ce ne sono quattro e ne ho prese due confezioni perché così sono otto dopo, dopo, prima bisogna lavarla poi la salsiccia di tacchino suine pollo che aveva lo sconto del 30% alla cassa e vabbè, tirala su le salamelle, la salsiccia tipo toscana noi le chiamiamo salamelle voi invece come le chiamate queste salsicce qui e poi il ketchup della Calvè che anche questo qui ha la scritta qui dietro in super piccolino senza glutine adesso, ah poi che ce l'ho qua e ve la faccio vedere un'acqua demineralizzata perché come vi dicevo sabato non c'è scusa che tenga la dobbiamo assolutamente stirare adesso metto a posto queste cose vi faccio vedere poi quello che c'è nelle altre due buste e poi abbiamo preso questi spiedini anche questi qua avevano lo sconto del 30% alla cassa perché scadono il 12% io li metto in freezer e poi li tiro fuori sabato pomeriggio sera e le confezioni sono da 3 e ne abbiamo prese 3 confezioni i piatti piani compostabili sempre per domenica proprio per avere meno sbatti macinato difesa di tacchino per il ragù per gli gnocchi che vi ho detto ho però preso appunto questo così almeno può mangiarlo senza problemi anche Maurizio e poi perché lo preferisco diciamo all'altro non mi piace tanto fatto così perché andandolo a congelare poi diventa tutto un tutt'uno però troveremo il modo troveremo il modo di romperlo poi la salsiccia sempre per domenica l'altra confezione di salamelle e poi per finire i viustel di pollo e tacchino ne ho prese due confezioni da 12 come verdura metteremo insieme i pomodori tanto come avete visto ne abbiamo comprati tantissimi e le patate cercheremo delle patate non troppo grosse non troppo piccole da fare al cartoccio tra quelle che ho comprato e poi abbiamo preso sempre contiene glutine e sempre al penny anche due baguettine per pranzo qua in fondo vedete c'è scritto contiene glutine e basta quello che abbiamo preso al penny è tutto vi lascio lo scontrino adesso e poi vi faccio vedere cosa abbiamo preso dai cinesi eccomi allora dai cinesi ho trovato questo super pacchettone di della vileda di panni microfibra e quindi l'ho l'ho preso qui c'è il buco per sentire poi queste due bagliette con pomellino che Sabrina ha detto sì sì così sono più comode la spugna magica che volevo tenere le ho prese per nel caso poi magari le scrivanie visto che sono bianche o magari macchie difficili nelle porte visto che sono bianche della camera dei bambini allora visto che ho visto Deborah che ne parla ho sentito se non sbaglio anche Nicole che ne parlava ho detto aspetta le prendo anche io le tengo lì quasi meno quando mi servono ce le ho poi qui ho provato a prendere perché anche di questi qua l'ho sentito parlare tantissimo in tantissimi video anche sette sotto un tetto l'hanno fatto vedere facevano vedere come lo usavano dovrò andarmi a rivedere il video perché non mi ricordo più comunque ho preso sia il sapone sgrassatore universale che proprio il diciamo il panetto di sapone e lei faceva vedere che ci aveva fatto le palline poi se non sbaglio le metteva direttamente nel cestello della lavatrice per lavare il bucato quindi volevo provarlo vedere come come mi trovo oltretutto ecologico e poi costa veramente pochissimo perché un panetto diciamo così io l'ho trovato a 1,20 euro quindi ottimo poi ho preso degli altri panni in microfibra così quelli più vecchi li usiamo adesso li stiamo usando dove passiamo la candeggina e questi più nuovi quelli della Vileda sicuramente non li uso per quello perché e questi qua più nuovi invece li tengo per altre cose comunque me ne servivano un po' e poi sto andando in fissa con questi panetti in microfibra poi spazzolino per Pia spazzolino per Sabrina un kit di spugne per i piatti questo qui per accendere il fuoco anche questo qui accensioni ecologiche e sto cercando di stare un pochettino più attenta alle cose questo super super mocio è gigante è lunghissimo e quello che avevo sembrava mezzo l'ho andato quindi ne ho comprato uno nuovo per cambiarlo e poi ho preso degli assorbenti perché ahimè siamo in due adesso ad avere cioè ormai ad avere il ciclo quindi ho preso questi qua dell'alicia di nuovo che c'eravamo trovate molto bene e poi ho provato a prendere questa marca che ho trovato lì nel negozio appunto dei cinesi e vediamo come sono e poi ho preso questi due dentifrici questo qua di Tom & Jerry questo qui della mentadent per bambini per Pia da metterne proprio un velino e per Giada perché non riesce ad usare il dentifricio normale quello diciamo da da grandi ecco e quindi ancora le prendo questo qui tanto l'importante è lavarli i denti e niente quindi questo è quello che abbiamo preso dai cinesi adesso sposto tutto vi faccio vedere invece quello che abbiamo preso alla prealpina ok siamo alla prealpina quindi qua potete vedere il pannello che mi sono fatta tagliare come fanno del cassetto poi qui c'è la carbonella il barbecue che come potete vedere c'è il prezzo 11,95 euro proprio piccolino giusto per fare la carne alla braccia ecco a ferragosto e poi boh non credo altre volte comunque poi qui abbiamo di nuovo i teli 5 perché in camera delle bambine non posso spostare troppi mobili e quindi ho bisogno dei teli per poter coprire in modo da non sporcare la carta abrasiva da mettere nella levigatrice poi che abbiamo già le L che mi serviranno per attaccare i supporti per i fondi dei cassetti il tappo per il buco della canna fumaria della stufa così almeno spostiamo la stufa due spugne abrasive che invece mi serviranno per un altro progetto per il mobile quello lì grosso e un altro pennello perché facendo i conti con Sabrina ci siamo accorti che ce ne mancava uno e in ognuno stiamo inserendo un pezzo di scotch e di carta con il nome per quello per cui lo stiamo utilizzando perché così almeno non rischiamo di combinare guai e poi l'interruttore da cambiare in camera delle bambine e basta questo è tutto quello che abbiamo preso alla prealpina adesso vado a levare questo prepariamo il pranzo mangiamo perché poi ci dobbiamo mettere al lavoro perché oggi abbiamo tantissime tantissime cose da fare guarda sono i colori dell'Italia che ci dobbiamo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adesso devo chiamare la prealpina dove ho preso il piano e chiedere se vado giù domani se riescono a farmi questo taglio di mezzo centimetro che ho sbagliato. Oppure se devo comprare un altro pannello per tagliarlo giusto. Adesso provo a chiamare e chiedo così almeno devo comprare delle altre L perché quelle che avevo le ho usate tutte per sistemare questo cassetto qua. E quindi ne devo prendere un'altra confezione, un altro pacchettino e così almeno sistemiamo anche quello lì. Di qua abbiamo iniziato a spostare questo mobile che l'ho messo lì, non è che chissà dove l'ho messo. Adesso poi andrò a tagliare questi fili che sono quelli che vanno su all'antenna, ma non lo so se questo lo posso tagliare devo chiedere a Maurizio. Ma quello lì della parabola invece lo leviamo perché tanto va fuori alla parabola, così almeno leviamo questo filo che si ingarbuglia tutto qua così e chiudiamo il buco che c'è poi là dietro. Dobbiamo levare anche il comodino ma non oggi, la lasciamo perdere e adesso andiamo poi a levare la stufa. Purtroppo ho anche il telefono scarico e quindi non riuscirò a farvi vedere tutto quanto, però dobbiamo andare a mettere il tappo lì, quello che ho comprato, e levare il tubo e così almeno spostiamo la stufa, almeno qui ho libero. Quindi adesso diamoci... Scusate, ho appena parlato con quella della prealpina che mi ha detto di andare domani mattina, che me lo sistema, me lo rifila il pannello perché appunto ho sbagliato, non l'ho fatto apposta, ho preso male la misura e quindi niente. Volevo chiedervi, visto che tutte quante mi avete detto di mettere le tende, io avevo già comunque intenzione di metterle, soprattutto nelle camere da letto perché di fronte, non so se si vede, vedete che c'è una casa, vedete lì? Quindi anche per la privacy, soprattutto per la privacy dei ragazzi, sarebbe giusto avere la tenda in modo che quando loro si cambiano nessuno vede. Quindi volevo chiedervi, siete per tende attaccate alla finestra oppure un piccolo bastone e tende che scendono giù? Perché io le tende le ho molto lunghe e qui come vedete il soffitto non è tanto alto, di conseguenza non posso esagerare troppo però volevo chiedervi se secondo voi eravate più pro tende da finestra oppure tende sempre da finestra però appese con il bastone in alto? Perché di tendoni non ne ho e allora volevo cercare di usufruire almeno per il momento perché abbiamo altre spese, diciamo più importanti, le scrivanie, vista questa didattica distanza, visto che i ragazzi stanno crescendo, hanno bisogno dei loro spazi, di poter fare i compiti della tranquillità anche per studiare, Emanuele che stanno in seconda superiore, non ha le classiche tabelline che è massi, è facile, ha cose molto più difficili e quindi vorrei che avessero il loro spazio. Perciò vorrei finire con le sedie, prendere la scrivania Giorgia, quindi le tende per adesso tengo quelle che ho, ne ho una borsata di sotto, tengo quelle. Però volevo chiedervi appunto, secondo voi, meglio appese direttamente alla finestra, che i gancetti per i bastoncini ci sono già, oppure meglio il bastone in alto e poi le tende che scendono, diciamo, staccate dalla finestra? Allora, questo è il quesito di questo vlog, comunque, adesso andiamo a fare il pezzo della stufa, così almeno se riesco a smontarmi quella e a spostarmela, praticamente già la camera è già super vuota. È che ho ancora da levare un sacco di roba prima di poter cominciare e quindi bisogna darsi un po' dentro, se no non ce la faccio. Infatti, 99 su 100, se ci faranno fare la festa, che non ci sono chiusure strambe o cose del genere, 99 su 100, la festa non riuscirò a farla di sotto in tavernetta perché purtroppo non riesco ad andare a fare anche lì. E quindi faccio quello che posso. Anche perché c'è questo anche nuovo progetto, che prima proveremo qua sopra, se mi piace come viene, allora poi chiudiamo i buchi, facciamo tutti i passaggi che ci sono da fare e lo faccio qui. Quindi, se invece non mi piace, compreremo una libreria, questo andrà a finire da qualche parte, non so dove. Comunque, adesso vado, se no non finiamo niente, proprio niente, 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 niente. Grazie. 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 Ora sono arrivati dei pacchi, volevo aprirli con voi. c'è anche della roba della scuola ve la faccio vedere ma poi per dare modo anche a chi è interessato magari solamente proprio a vedere la roba di caccelleria per la scuola che ho comprato quest'anno per i bambini faremo poi un video a parte quando avremo preso quasi tutto perché considerate che Giorgia farà l'artistico e Gabriele prima media e quindi sicuramente gli chiederanno delle cose e quindi non comprerò tutto prima della scuola ma alcune cose le prenderemo le prime settimane perciò ci saranno due video dedicati agli acquisti per la scuola uno che vi farò prima dell'inizio della scuola con tutte le cose che abbiamo acquistato e il secondo con tutte le cose che invece gli avranno chiesto a scuola in più comunque cominciamo da qui questo qui ho comprato da questa cartoleria che si chiama lo scarabocchio mi ha messo un bigliettino e mi ha messo anche i ringraziamenti per aver scelto questo posto non so lì dove sia però non ho idea da dove venga aspettate che provo a controllare allora in particolare questa è di Buscate in provincia di Milano questa qui dove è di Deborah dove ho comprato il diario per Giorgia era dentro un sacchetto di plastica di quelli lì dei Corrieri fasciato con tutta questa carta puoi chiudere la porta? e dentro c'è il diario Giorgia ha scelto questa leva la carta prima che mi arrabbi ok allora ho trovato anche una cosa questo qui è un regalo non l'ho comprata io ha scelto questa smemoranda con le pagine che sono color arcobaleno vediamo se apriamo dentro è a quadretti con i nomi dei giorni già scritti così non devo impastire e sotto c'è scritto qualcosa e poi sotto ci sono delle frasi molto molto carina e in regalo questa signora Deborah questa ragazza gli ha messo anche questa penna Bic arancione in particolare questa qui è una crystal e questo quindi è il diario di Giorgia mentre invece qui è arrivato quello di mano è arrivato dentro il sacco di GLS dentro una di queste buste che dentro hanno l'imbottitura sempre la fattura ovviamente e adesso vi faccio vedere invece che cosa ha scelto Manuel Manuel ha scelto il diario di Bastardi dentro anche l'anno scorso lo aveva ma nero quest'anno invece l'ha scelto bianco è scritto 2022 quindi è diverso anche qua vedete sono già scritti i giorni per fortuna ed è a quadretti e poi ci sono anche degli stickers ecco non riesco a prendere qua ah no no i fumetti fumetti e qua gli occhiali per vedere qui cosa c'è scritto? non lo so ridi con scusa comunque molto molto carino anche quello di Manuel e anche per lui un regalo una penna gel gialla devo dire che sono soddisfatta di questi due diari sono arrivati in perfette condizioni il negozio invece dove ho preso quello di Manuel si chiama Novidea e non so sinceramente da dove arriva è bellissimo quello che hanno scritto qua sono molto contenta sono arrivati i sani addirittura un omaggio di una penna che non è tantissimo però fa sempre piacere e e niente quindi sono contenta dei diari invece dicevo per quanto riguarda Sabrina Gabriele e Giada loro il diario non glielo compriamo ma perché la scuola al primo secondo primi giorni di scuola li darà quello dell'istituto ok per tutti quanti uguale Pia smettila e già con dentro anche Pia basta e già con dentro anche i tagliandini per le giustificazioni e tutto il resto quindi adesso spostiamo questa roba qui e vi faccio vedere invece cosa c'è nello scatolone che invece è arrivato da Amazon allora come prima cosa vedete un'altra confezione di salsa di soia senza glutine questa qui noi la usiamo non è che la usiamo tantissimo però la usiamo anche qua per condire tipo l'insalata di eriso e la usiamo tutti quanti è comoda perché appunto è in bustine addirittura le bambine ne usano metà per uno e non rimangono aperte preferiamo queste anche se magari costano un pochettino di più ma preferiamo queste invece la bottiglia grande poi rimarrebbe aperta tanto tanto tempo perché non è che la usiamo tutti i giorni poi qua ci sono i temperini che ho preso ai bambini in realtà Sabrina e Giada come sapete l'hanno già ma a Giorgia Gabriele e Manuel era piaciuta l'idea di questo temperino con serbatoio a forma di porcellino aspettate che al contrario levate spostate il nasino e lì ci possono adesso lo apri che glielo facciamo vedere per tanto che Sabrina apre quello vi faccio vedere ho preso una confezione da quattro perché tanto dicevo anche con Maurizio che non mi ricordo di aver mai finito una penna rossa nell'anno scolastico non mi ricordo di averne mai finita una e quindi ne ho prese solo quattro poi se serve il massimo ve le compro una confezione di bicche rosse e quando farò il video dedicato alla scuola vi lascerò anche i link per arrivare direttamente su Amazon ma se volete ve li lascio già anche adesso per arrivare a prendere queste cose ecco Sabrina ha aperto il temperino come vedete si sposta il nasino e si tempera e poi si richiude e qui c'è il serbatoio secondo me è molto carino tieni posso temperare no non si può temperare poi ho preso una confezione anche di penne verde perché anche queste qui non è che le usano tantissimo però comunque servono e quindi sono per Gabriele Emanuele e Giorgia poi qui invece qui invece siccome loro sono tanti e di queste invece se ne consumano tante ho preferito prendere un pacchetto grande di 50 pic eccole qua normali blu ho fatto scegliere a loro il colore c'era sia blu che nera loro l'hanno scelta blu e così almeno per un po' per tutto l'anno scolastico forse anche di più per lo meno le hanno perché è inutile comprarne una 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 che poi magari tra un mese gli serve di nuovo invece ho preso la confezione da 50 almeno per tutto l'anno sicuramente siamo sicuri che siamo a posto poi abbiamo ripreso i guanti perché quelli la sono quasi finiti e siccome dobbiamo ancora pitturare tanto anche con lo smalto eccetera per evitare di sporcarci ne ho preso un altro pacco poi matite colorate della Giotto Stil Novo per Sabrina da mettere nel suo astuccio ma non andrò a metterli tutti e 24 perché sarebbero troppi e non sarebbero tutti dentro l'astuccio o ci starebbero tutti solo questi poi non ci starebbero pennarelli che poi vedrete quanti sono e faremo per esempio non so un solo tipo di arancione un giallo verde chiaro magari ce ne sono due e noi qui vedete ci sono tre tonalità gli diamo un verde chiaro un verde scuro l'altro lo teniamo da parte conservato nel momento in cui va a temperare tanto uno di quei due verdi viene sostituito il bianco e il nero sono gli unici che rimarranno sempre uguali pennarelli abbiamo preso perché era conveniente come prezzo la confezione da 36 anche qui non glieli andrò a mettere tutti perché sono veramente troppi sarebbero troppi anche se avessero un astuccio solo per i pennarelli ma così avendo quella astuccia due tasche le tasche non sono giganti quindi sceglieremo i colori primari i colori base e poi se per caso le servono le andremo poi a sostituire ad aggiungere ci saranno 25 tonalità di giallo e basta e poi come vi dicevo appunto la salsa di soia per il momento ci è arrivato questo qui con questa salsa di soia noi ci troviamo veramente molto bene è anche pratica nel caso andassimo al ristorante giapponese Gabriele e Maurizio se la portano dietro in modo che possono usare la loro nel ristorante giapponese dove andiamo noi abbiamo spiegato perché loro si portano le bustine con la loro salsa di soia non ci hanno detto niente hanno capito quindi noi siamo a posto e niente comunque la utilizziamo anche in casa anche per condire altre cose che non sia inzuppare i rotolini di sushi comunque per gli acquisti è tutto adesso devo andare a preparare la cena e noi ci aggiorniamo poi direttamente domani quindi io vi saluto ciao ciao a domani vieni Pia col tuo cappello oggi Pia fatti vedere qui c'è sabrina ciao sabrina tenta pia tenta ti fai vedere con quel cappellino guarda la mamma ma non mi guarda allora ci sono i barbecue quello lì è davvero bello noi abbiamo preso quello lì allora siamo su abbiamo pulito la cucina e la nostra camera e c'è ancora da fare tutta la parte lavandino cucina fornelli ma lo faccio dopo ho lavato bene il pavimento adesso andiamo a montare quel benedetto mobile lì cassetto vediamo se ce la facciamo stamattina sono andata a tagliare il pannello con le bambine e poi ci sono arrivati degli acquisti che avevo fatto su ish e quindi volevo farveli vedere e niente adesso montiamo sto cassetto se ce la facciamo e così per oggi abbiamo finito purtroppo non possiamo fare tantissimo però diciamo che ci siamo dati l'orario fino alle 6 e poi basta perché io devo preparare cena ci sono altre cose da fare perciò poi basta perché se no sto dietro troppo a questo e non riesco a fare niente altro quindi moviamoci ciao 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 Grazie per la visione 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 Grazie per la visione